Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Hogwarts Legacy e in questo video andremo a fare un'altra missione secondaria che richiederà la lettura di una mappa esattamente questa. Vorrei, ma non pozzo! Ti ho ammazzato le risate con Freaksy! Vabbè, detto ciò, dalla regione sud di Hogwarts ci spostiamo qua, non è vero? Non è assolutamente vero, io la odio questa cosa. Aranshire, giovini da Aranshire, dobbiamo arrivare esattamente qui. Adesso vi faccio vedere il percorso, ovviamente, siamo vestiti di tutto punto, siamo bellissimi. E scopa, ovviamente. Appena spawniamo, andiamo di là. Freaksy, come in che senso scopa? Questa donna è veramente di una volgarità unica. Giovini, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un bel like per salvarmi dalla volgarità di questa donna che non potrete vedere. Ma sul canale qualche video con lei c'è. Ecco, parliamo con il Puzzo Magico. Tamori, insomma, signoroso. Signora. Un soggetto ignobile mi ha lanciato un pezzo di pergamena che è rimasto incastrato. Ma lo vuole uno sciroppino per la tosse? Secondo me le serve, pure Nareo Sol magari. Eccola qui la nostra mappa, giovini! Adesso andiamo a risolvere l'enigma. Che... Oddio, non è che si capisca che era anche così in realtà. Però, però, se siete degli attenti osservatori, in realtà... Una specie, è una mappa. Grazie, grazie davvero. Ah, che sollievo. Spero che la mappa ti torni utile. Più che a me, perlomeno. Ma quindi fammi capire, era la mappa che ti dava fastidio al gargarozzo. Non tossisci più. Vabbè. Ok. Se avete fatto tutti i fulcri, e nel caso non l'abbiate fatto, sul canale c'è il video che vi è stato aspettando. Andatela a far subito. Avrete notato sicuramente questa cosa qui, che ora vi faccio vedere io. Allora, dobbiamo arrivare... Aspettate che c'è un vuoto. Aspettate che c'è un vuoto. Mi pare più o meno qua in zona. Via. Ci spostiamo qui a Irondale. Vediamo se mi ricordo il castello giusto, però. Ho dei dubbi. A questo punto ho dei dubbi. E andiamo di qua. Eh, ma infatti, infatti. Ho sbagliato il castello. Qui esattamente, giovini. Qui dentro ci sarà... Qui ci sarà il fulcro da attivare. E i pezzi del fulcro da raccogliere. Per aumentare le barre di magia antica che, come potete vedere, da due sono arrivata a cinque perché li ho trovati tutti. Quindi mi raccomando, recuperate il video sul canale. Ve lo linko in descrizione. Ci sarà la playlist guide. Li troverete tutte le guide di Hogwarts Legacy. Detto ciò, attraversiamo il ponte. Esatto. L'albero ha qualcosa che non la convince, anche perché adesso è interagibile. Cosa dobbiamo fare? Ci spariamo. Levioso. E sotto ci sarà la cassa. Yeah. Un modo interessante per nascondere un tesoro. Sì, effettivamente. E abbiamo risolto la missione. Veloce, facile e indolore. Quindi, detto ciò, visto che siamo vestiti benissimo e siamo bellissimi. No, vabbè. Guarda qualche bellezza. Detto ciò, giovini, grazie mille per averci seguito e alla prossima. Grazie a tutti.